Questi sono gli ordini, Task Force X. Occupatevi dell'ultimo Terraformer. Task Force X, ho un lavoretto di disinfestazione per voi. Raggiungete la posizione che vi ho inviato e spassate via tutto. Dobbiamo distruggere quei mostri. Grazie. 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 che le scude dell'intubatore abbia ancora un po' di energia Ho provato un nuovo messaggio Uccidere qualcuno di una risposta Eccolo! Eccolo! Voglio un massacro, Arlie Posso far nientene a vita Eccolo! Quello che per voi è un super computer non è altro che un giocattolino Guardate bene! Il cristallo è di nuovo al suo posto Eccolo, andiamo giù Dovrei occuparmi di dei poveri Eccolo, subito i cristalmi non stanno giù Eeeh, slow! Stavate così, a peso? Travatemi il mago del strip! Qualcuno ha intenzione di levare a Quinzel quelle bombe Con la forza Restai nel primo ritaglio Mortiamo quell'incubatore E facciamolo perdere come un'inforza E' un superi animi Tendiamogli il colpo di grazia Le vedo sempre la resistenza nel mio programma di conquista flamica Mezzo in arrivo alla vostra posizione Pobre, non capisco Pobre, non capisco Non avete via di scampo Sono abbastanza veloce, Quinn! Nessuna linea di tiro Muoviti Nessuna linea di tiro Muoviti Nessuna linea di tiro 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 Ti finirò Nessuna linea di tiro 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 Nessuna in tiro Nessuna linea di 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 tiro Nessuna in 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 tiro